Buongiorno cari telespettatori, l'Emilia Romagna è sconvolta dall'alluvione ed è ricoperta di acqua e fango. Ieri il Presidente della Regione, il Governatore Bonaccini, ha detto che è come un nuovo terremoto. Ci sono nove vittime al momento, un numero imprecisato di dispersi, 4.000 sfollati, 13.000 persone sono state evacuate e anche oggi resta l'allerta meteo. Intanto la pioggia ha dato una piccola tregua e per tutta la notte si è attivata e è continuata ad essere attiva la macchina dei soccorsi per fronteggiare questa emergenza, per dare aiuto, per soccorrere molte persone che per esempio sono ancora isolate nei borghi e nelle frazioni dell'Appennino. Ci sono, sono scifre che si sono aggiornate via via, 24 comuni inondati e la maggior parte dei fiumi, dei torrenti, dei corsi d'acqua della Regione sono trascimati. Ci sono ancora alcune arterie stradali e autostradali interrotte, c'è difficoltà nella circolazione ferroviaria, soprattutto dei treni regionali. Come sapete è stato rinviato il Gran Premio di Formula 1 di Imola ed è in dubbio anche il concerto di Bruce Springsteen. Il governo ha annunciato per la prossima settimana, il 13 di maggio, un consiglio dei ministri per fronteggiare la prima emergenza. Stamattina il ministro dell'Ambiente, Pichetto Fratin, ha fatto sapere che sarà deliberato lo stato di calamità per l'Emilia-Romagna. Peraltro poco fa ha riparlato il presidente Bonaccini, ha fatto sapere, pensate, che ci sono nella Regione 280 frane attive e 400 strade danneggiate. A proposito della quantità eccezionale di pioggia caduta, Bonaccini ha detto in quattro giorni la pioggia di un anno e a proposito della conta dei danni, non è ancora il momento perché si fronteggia l'emergenza, Bonaccini ha ipotizzato danni per qualche miliardo per quanto riguarda la Regione Emilia-Romagna. Noi cominceremo da qui, poi ci occuperemo anche di politica, ci sono ancora molte polemiche sull'autonomia differenziata con qualche screzio tra la Lega e Fratelli d'Italia. C'è la Premier Meloni che è arrivata in Giappone dove domani si apre ufficialmente il vertice del G7, alla vigilia avrà un bilaterale con il Premier giapponese, stanno arrivando via via anche i sette grandi del mondo. Poco fa è arrivato anche il Presidente americano Biden. Allora, i nostri ospiti di oggi, per l'opposizione c'è con noi la senatrice Alessandra Maiorino del Movimento 5 Stelle. Buongiorno. Voglio citare un'intervista al Foglio, Massimiliano Fazzini responsabile del team Rischio Climatico della Società Italiana di Geologia Ambientale, ovviamente è il momento degli esperti. Lui dice una cosa legata molto all'attualità, al PNRR. Che cosa dice? Dice il 94% del territorio italiano è messo come la pianura Emiliano-Romagnola. Quindi i fondi del PNRR andrebbero maggiormente destinati ad opere finalizzate a contrastare il rischio idrogeologico. E aggiunge, noi come società geologica ci siamo confrontati con i ministri Fratin, Salvini, Lollo Brigida, sono tutti favorevoli alle grandi opere. Il problema è che poi a gestire i soldi sono le regioni. E spesso nel momento in cui il segno politico della regione è opposto a quello del governo, si blocca tutto. Perché c'è anche questo elemento che è pazzesco, se guardiamo le immagini della devastazione di questi giorni. Allora, devo andare a sentire per le tante questioni tecniche Mauro Grassi, però voglio sentire intanto la senatrice Maiorino. Perché anche qui io credo che non solo i cittadini dell'Emilia-Romagna, ma tutti gli italiani davanti a questa roba qui dicono cara maggioranza, cara opposizione, basta polemiche. Fate fronte comune e cercate di risolvere le cose che sono risolvibili in tempi brevi. Guardi, condivido in pieno, perché è esattamente quello che ho detto io ieri in aula al Senato, rivolgendo un pensiero appunto purtroppo alle persone che hanno perso la vita in Emilia-Romagna e quanti hanno perso tutto. E ho chiesto all'aula, ieri votavamo una mozione unitaria per il contrasto all'homo-lesbo-bitransfobia nel mondo. Ho chiesto all'aula di unirci anche per questo motivo, cioè per il contrasto allo sconvolgimento climatico. E ho chiesto di non chiamare queste persone che hanno perso la vita vittime dell'alluvione. Sono vittime della crisi climatica. La destra mi ha fatto boo, mi ha risposto con dei boo, perché purtroppo siamo di fronte ancora a questo. A chi nega che ci sia un collegamento. Guardi, c'è un'intervista di Mercalli e oggi purtroppo è disperato, ma io sono nella stessa condizione, perché si continua a negare il collegamento, il dissesto geologico e la cattiva, pessima gestione del territorio, quindi a terra, è una delle cause. Poi c'è una causa che invece viene dal cielo. Esatto, il consumo di suolo. Poi c'è una causa che invece viene dal cielo, che è quello del cambiamento climatico, che ci porterà, io ho ascoltato con attenzione l'On. Lupi, ha parlato più volte di emergenza. Non è un'emergenza, è un fatto strutturale. Fra tre mesi ci troveremo da un'altra parte, c'è stata Senigallia a settembre, c'è stata Ischia a novembre, adesso due volte l'Emilia Romagna. Tra tre mesi non è portare sfiga, tra tre mesi toccherà qualcun altro. E anche la questione, scusi, finisco, anche la questione, l'articolo che ha citato prima, il segno diverso delle regioni, è una cosa un po' faziosa, non si tratta di segni diversi politici purtroppo. C'è un problema anche, al di là dei fondi che vengono tagliati, perché i fondi per la prevenzione sono stati tagliati in legge di bilancio del 45%, per la messa a terra. I fondi ce ne sono tanti e non vengono spesi. Sì, sono di che cosa stiamo parlando. Sia della prevenzione ordinaria contro il distancio di regione, che dei fondi del PNRR. L'unico investimento, anzi, l'investimento principale che dovrebbe fare è assumere, assumere personale tecnico negli enti locali, nelle regioni che siano in grado di mettere a terra questi progetti, perché se i fondi ci sono o non ci sono, se i progetti non vengono messi a terra, è tutto completamente inutile. Invece anche lì, purtroppo, sappiamo benissimo come stanno messi gli enti locali, quanto a personale, e il problema non si risolve. La legge sul consumo del suolo, noi l'abbiamo proposto, non c'è stato, né col governo giallo-verde, né col governo giallo-rosso, c'è stato verso di fare una legge sul consumo del suolo, perché sappiamo benissimo che quello è un altro dei problemi. è un problema strutturale, non emergenziale, è un problema strutturale, non emergenziale, non se ne verrà mai a capo. Voglio realizzare il margine, io dico che se è importante quell'opera, non voglio nessun parere, perché sono convinto che quell'opera si debba fare. Assumendo bene la responsabilità, questa roba che i fondi sono tagliati, ma di che cosa stanno facendo? Scusate, che abbiamo fatto un bilancio e siamo da sei mesi al governo, è un problema diverso, aggiungiamo un ingrediente, adesso Federica arrivo a scaldare, perché qui è un tema trasversale, se non abbiamo questa coscienza, continuiamo a fare il professore. Non ci stagliate, adesso voglio sentire, Federica Fantozzi, fatemi andare, mi fate andare da Mauro, però è così. Posso, posso, vado, ci sono altri, e chissà se ce la faccio oggi. Vado da Mauro, i migliori giovani oggi, quelli che sono escono da un'università, vanno nella pubblica amministrazione o vanno nel privato? Se li paghi zero nella pubblica amministrazione, con questa nomenclatura per cui, no, tu devi pagarli e se ne sono bravi li mandi a casa, come avviene? La soluzione che ho detto io all'inizio, che ho proposto io all'inizio, che occorre assumere negli enti locali, nelle amministrazioni, in modo da poter portare a termine i progetti, adesso l'Upi, che è la maggioranza del governo, offre questa soluzione. Io non ho messo in maniera populistica e pauperistica il tetto agli stipendi della pubblica amministrazione, perché è un'idiozia totale, se uno è bravo deve essere pagato, nella pubblica amministrazione come nel privato. L'unico problema della pubblica amministrazione è uno, che se non è capace va a casa. Non sono stato io, in anni in cui si è criminalizzata la pubblica amministrazione, e l'avete fatto voi, come Movimento 5 Stelle, per cui, se tu davi 300 mila euro a uno da pubblica amministrazione, lui è un ladro. Lui è un ladro. Lui è un ladro. Lui è un ladro. Scusa, io sono di qua, intanto. Perché guardi di là? No, perché guardavo Grassi, che sa di che cosa sto parlando, nel senso che abbiamo elaborato insieme per ridare forza alla pubblica amministrazione. No, Lui è un ladro. Non volevo fermare, Lui è un ladro. Non volevo fermare, Lui è un ladro. Non volevo fermare, Lui è un ladro. Sì, però sentiamo anche la pubblica amministrazione. Mi ha interrotto. E chi ha negato questo? Ma chi ci sta parlando, mica a te mi sta riferendo. Poi c'è il tema della digitalizzazione. La cosa che ho detto io all'inizio, mancano i tecnici, mancano persone all'interno della pubblica amministrazione, assumetele, perché al governo ci siete voi. Questo riguarda anche i 5.000 euro di generale. Perché le avete tagliate. Voi siete stati su Marte, ma fare polemica in questo momento è una cosa peggiore. Ma la cosa peggiore che hai detto prima è questa. Quando io ti dico semplificazione, assunzione di responsabilità, vedi i codici di appalti, la tua risposta, perché è un problema ideologico, divisione è certo. Così si dà spazio alle macchie. E' un'attività che si affida direttamente il sindaco e il populismo. Voglio concludere la senatrice. Scusa l'interruzione, perdoni. Sì. Affrittata fatta come il PNRR di Borghi, che è una affrittata. Allora, c'è un problema di consumo di suolo. Non lo diciamo noi. È un dato di fatto. Il consumo di suolo in Italia è maggiore alla media europea di oltre tre punti e mezzo. Nell'ultimo anno sono stati occupati ettari ed ettari quadrati, mi pare tipo 27 campi da calcio al secondo. Ora vado a memoria, ma la cifra è più o meno quella. Il Partito del Cemento, che continua a imperare a destra e a sinistra, mi dispiace perché io ripeto, il Movimento 5 Stelle ha proposto la legge sia sotto il governo giallo-verde che sotto il governo giallo-rosso, qui siamo in minoranza, quindi è chiaro che non ci ascoltano, non c'è niente da fare perché il Partito del Cemento in questo Paese la vince su tutta. Può anche non essere il Partito del Cemento. Magari avete fatto una proposta che non condivido. Ma si può modificare. Tu sai come ci si oppone al consumo del suono in un modo che voi ideologicamente vi siete senza demolizione e ricostruzione. Non vogliamo consumare il territorio, basta fare come in America. Si può rapidamente, in maniera flessibile, demolire e ricostruire rapidamente. Ma non credo che loro siano contrari a questo. Siano contrari perché il tema della flessibilità nello strumento urbanistico è un tema che loro non condividono a tutti i bonus edilizi. I bonus edilizi che contribuivano... No, no, le avete spenti voi. Ma meno male, una vergogna. Ma che una vergogna? Che questa è un'altra puntata del bonus edilizi. Regalo a tutti, signori, fate la vostra casa che tanto paga lo Stato. Signore e signori, scusate, è arrivato sotto corona. Non siamo più sul premierato. Sì, no, inizialmente, la proposta iniziale. Sì, sì, la proposta iniziale. La proposta iniziale però... Sì, ma la proposta iniziale era il presidenzialismo. Ma l'obiettivo è sempre... È chiaro che... Maiorino, siccome voi siete, come dire, strenuamente contro la riforma dell'autonomia differenziata, avete paura dei cambiamenti? Utilizzo le parole di Araborselli. Ma figuriamoci se il Movimento 5 Stelle ha paura dei cambiamenti. Il tema non è assolutamente questo. Intanto non si parla di autonomia differenziata in astratto, ma di quel disegno di legge firmato Calderoli. Quindi non è l'autonomia differenziata. È quella che è scritta nella Costituzione sulla quale anche io ho delle grandi perplessità. Personalmente, visto che è stato dato, diciamo così, un contentino all'epoca ai movimenti di Bossi per cercare di calmare la situazione, si è fatto quel pasticcio, dal mio punto di vista, con la modifica del titolo quinto della Costituzione. Ma il disegno di legge Calderoli fa esattamente quello che prima diceva Borselli, cioè le regioni che sono più brave, le regioni che hanno più capacità economica potranno erogare i servizi anche ai cittadini. Quelle che non ce l'hanno invece non potranno più erogare i servizi. E tra quelle che non ce l'hanno noi vediamo gran parte del centro-sud di questo paese. In tutto ciò gli accordi tra Stato e Regione saranno inamovibili in base... No, allora, attenzione, questi famosi LEP, intanto il disegno di legge Calderoli che sono i livelli essenziali di prestazioni, sì, i livelli essenziali di prestazioni dice che tutte le altre competenze che non sono legate ai LEP sono immediatamente trasferibili, quindi trasporti, ambiente, edizioni... Sì, però non dimenticate che io sono Mauro Gress e qui devo chiedere una cosa finale. No, no, però queste sono informazioni importanti, scusate, da dare a chi ci ascolta. Tutte le altre competenze che non sono legate ai LEP e sono tantissime sono immediatamente trasferibili alle regioni. Quindi, che cosa avremo? E poi con il disegno del premierato a cui Giorgia Meloni da sempre ammirato ci ha buttato un po' di inchiostro di seppia sul presidenzialismo, ma in realtà è al premierato che è un unicum in Occidente, perché non esiste nessun altro ordinamento basato sul premierato in Occidente. L'unico esempio è Israele dove pure... una domanda che vogliono fare. Sì, no, una domanda. Dove se avviano tutto accettabile questa contraddietà l'autonomia se ad oggi noi avessimo un paese che non viaggia a due velocità. Noi oggi oggettivamente abbiamo un paese il nord e il sud. Quindi è meglio averne un sanitario perché era per cui si dà due modi sperimentare forse un modello più efficiente. E però diventa retorica. Scusa, ma fino a te perché si sperimenta? Ma scusa, ma voi non avete sperimentato con il reddito di cittadinanza? L'avete sperimentato e si è visto che era una funzionanza. Ma era legittimo che voi lo sperimentavate? Avete detto che sconfiggiamate la povertà e la povertà è rimasta. Mi fate tornare la grazia. Si è salvato e allora noi salveremo finalmente il paese non lo metteremo con la velocità. Insomma, la discussione parlamentare sarà molto interessante da seguire. Sì, ma non c'è la saura della possibilità di cambiare. Grazie, scusatemi. Sperimenta sulla pelle dei cittadini e sulla pelle dell'esercituzione. Porca misera se l'avete sperimentato voi. 36 miliardi di euro per risultare. Peraltro stamattina Renzi ha detto se Calenda pensa che sia un mostro il fatto che ci abbiano gruppi comuni alla Camera del Senato non si sta insieme. e poi ha detto ancora rivolgendosi a Calenda è più una questione umorale non morale mi attacca come mi attaccano i grillini. Capisci che il centro ci deve buttare sempre in mezzo a noi Renzi quando non c'entriamo niente e qui volano gli stracci di famiglia tra di loro. Una cosa flash il risultato di questo primo turno dell'amministrativa è stato molto deludente per voi. Sì, no? Sui territori non siamo forti lo dico candidamente ma contano i territori però no? I territori contano contano assolutamente contano non è per questo che stiamo adesso partendo con i nostri gruppi territoriali insomma è una ricostruzione lenta ci vuole un radicamento sui territori assolutamente sì come si è visto anche la questione coalizione sì coalizione no non ha un'influenza non ha un'influenza misurabile insomma nei risultati quindi è una questione di radicamento sul territorio su cui stiamo lavorando grazie Mirta